musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi non potevo non tenervi aggiornati su quello che sta per succedere su fortnite ovviamente lo sappiamo tutti dell'allerta meteo ragazzi ieri hanno cominciato a presentarsi sulle televisioni di tutta la mappa di fortnite le allerte per il meteo quindi per la tempesta che dovrà arrivare prestissimo e ragazzi quel prestissimo adesso sappiamo esattamente quando è se ancora non lo avete visto ve lo faccio vedere io ragazzi nelle case di tutta la città le televisioni hanno cambiato il l'immagine è partito un countdown ragazzi un giorno 23 ore 13 minuti e in questo momento 20 secondi al nuovo evento quindi sappiamo quando accadrà sappiamo che cosa succederà non tanto ma lo stiamo intuendo mi raccomando ragazzi se volete rimanere sempre aggiornati sull'evento non dimenticatevi di attivare la campanella ed iscrivervi al canale noi ci vediamo in live domani ciao